In concomitanza con lo straordinario successo della mostra Andy Warhol vetrine, l'assessorato ai giovani propone durante tutto il mese di maggio negli spazi del PAN la rassegna Napoli città creativa in pop art con l'obiettivo di mettere le produzioni creative e i tanti talenti di Napoli al centro della città e della primavera napoletana. La rassegna sarà incentrata sulla cultura e l'arte pop in modo da animare la mostra e interpretarla con gli occhi del presente. Abbiamo aperto le porte del PAN quattro venerdì del mese di maggio un'offerta culturale innovativa su delle tematiche moda, musica, creatività urbana e comunicazione ad animare questa rassegna saranno dei curatori artistici giovanissimi della nostra città che hanno messo insieme le esperienze d'avanguardia contemporanea. La parte più interessante è poi il modo in cui abbiamo legato la movida della nostra città con l'offerta culturale Andy ai baretti. La rassegna dopo si sposterà nella zona di Chiaia frequentata da tantissimi ragazzi e quindi i valori culturali che sono la nostra arma per il riscatto e per lo sviluppo della città di Napoli. Napoli città creativa in pop art si snoderà in quattro eventi sui temi della comunicazione, della moda, della musica e della creatività urbana rispettivamente il 9, 16, 23 e 30 maggio dalle 17.30 alle 19.30. Dopo la chiusura degli spazi del PAN il meeting continuerà nelle strade della città per legare la movida dei giovani all'offerta culturale e istituzionale e contaminare gli spazi urbani frequentati dai giovani con i valori culturali di Warhol e del suo rapporto con Napoli. Napoli è una città che 365 giorni all'anno nell'ombra mette in campo dei progetti dove bellezza, arte e cultura sono la spina dorsale e sono la stella vorare. Per l'assessorato ai giovani è fondamentale dimostrare questo fermento e farlo in questo momento forse è una ragione che ci motiva ancora di più dove ai mass media viene data in posto un'immagine così crude e così lontana poi dalla quotidianità che invece frequentano e alla quale lavorano tanti ragazzi.